2 l'hai dato un bravo vai per uno ha toccato la palla e il pallo di scatto è trovata qua, lo credo mi hai insegnato anche quello? vai per uno vai per uno vai per uno vai per uno hai fatto il pallo di simbolista? veramente, guarda, meglio giocare in 10 che con lui e poi prima che era di là tutto in faccia che era tutto in faccia che è già di là e poi prima non te lo abbracciare ma non so che cazzi ma non so che cazzi grazie 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 grazie